Elena Christensen, ha 54 anni meglio a 20, il suo segreto. Elena Christensen, meravigliosa, ex, top model anni 90, una di quelle che si è mantenuta meglio negli anni. Come da tradizione annuale, inaugura la stagione natalizia nella sua casa immersa nella natura sui Monti Catskill. Nello stato di New York, con i suoi bagni mattutini nel fiume ghiacciato, con una temperatura esterna, documentata dalla stessa modella, di un grado centigrado. Elena, di origini danesi e quindi avvezza a questa usanza, posta foto e video sui social, scatenando l'entusiasmo dei follower che oltre a sottolineare il suo coraggio e la sua tempra fisica, convengono anche sul fatto che i benefici di questa sua consuetudine invernale si vedono tutti, la Christensen. Classe 1968, il 25 dicembre compirà 54 anni ma ne dimostra decisamente la metà. E così anche quest'anno, nonostante la neve e il gelo Elena si è immersa nel fiume. Pubblicando il video e le immagini sul suo account social, con la didascalia, giornata perfetta per una nuotata nel fiume U26C4UF e 0F U83D UDC59.